E allora avete capito quale, anche se il professore è molto tecnico, ma ha fatto capire che la piattaforma dove siamo noi dal punto di vista infrastrutturale è quella che è, ma bisogna intervenire proprio sulla gente e sul modo di comprendere queste possibilità di migliorare. Comunque il convegno era di poi ne parleremo. A proposito di gap, parliamo brevemente di sanità, aspettiamo il nuovo manager, ci siamo incontrati, dobbiamo fare un'intervista, l'abbiamo visto ieri, la prossima settimana sicuramente la facciamo, ma ci arriva per esempio una piccola lamentela che voi sapete che noi abbiamo un bravissimo primario che sa di medicina e di chirurgia, che sa operare con la laparoscopi, come si chiama, insomma senza tagliare le pance. E il guaio che ora ha una lista d'attesa e quindi purtroppo mancando anestesisti e cose del genere, c'è gente che aspetta da 4, 5, 6 giorni per fare una piccola operazione di routine alla collecista e cose del genere. E allora diamogli una mano, manager, direttore, per favore, se questo è bravo, fa le cose, aiutiamolo a fare meglio e più veloce. E questa è una. Seconda cosa, il gap. Cosa succede da oggi al 2043? Cosa è questo 2043? Il 2043 è l'idea che ha avuto il sindaco di Ragusa e si è affidato ad una società che secondo me non ha neanche la figura dal punto di vista della Camera di Commercio per affrontare questi argomenti. In pratica forse è un modo per non pagare l'esperto Verri là e gli paghiamo la società dove lavora lui. Insomma, costa 40 mila euro un progetto che dice di riscrivere Ragusa per guardare al 2043. Il Movimento 5 Stelle guardava al 2050, noi siamo al 2043, siamo un pochino più piccoli e guardiamo al 2043. Però io mi chiedo, ma chi è che ha questa possibilità di stabilire come si può lavorare per i prossimi vent'anni quando tu sei sindaco per altri quattro? Cioè, questo è il problema. E se poi quello che viene dopo tutta questa progettazione non gli piace, che poi è una progettazione che è un ascolto. Io speravo che venissero i geni e ce lo dicessero. Invece non è stato così. Allora, leggete sul rete eblea che c'è un articolo proprio per leggete questa fotografia. Io su questa progettazione ho i miei dubbi perché mi sembra di tornare indietro al periodo del dottor Caputo che poi non sappiamo che fine ha fatto. E prima di chiudere parliamo di Casa delle Farfalle. Nei prossimi giorni si apre questa interessante iniziativa al Centro Commerciale e Culturale. Però prima dobbiamo tributare l'estremo saluto a Franco Cilia. Oggi si sono svolti i funerali in cattedrale. Vedete queste immagini? Magari andiamo un pochino più avanti, più veloci, in modo da far vedere con l'entrata in chiesa. Allora, ecco, oggi ci sono stati i funerali, naturalmente molti gli amici, anche gli artisti, gente commossa perché Franco è stato, diciamo, con la nostra storia per 50 anni. È cresciuto, ha fatto lo scrittore, l'artista, personaggio molto conosciuto e quindi c'era tanta gente che lo ha voluto salutare. Vi devo dire che non c'è stato l'applauso finale. Io credo che l'applauso sia un po' una violenza quando si esce dalla chiesa e esce la bara con l'applauso. Forse i grandi attori come ultimo applauso, ma per gli artisti credo che il capochino e il pensiero a quello che è stato quest'uomo, senza dubbio, sarebbe stato più adeguato. Ringrazio, saluto la moglie di Franco, con la quale siamo stati tante volte insieme a discutere. L'estremo saluto. E vi lascio ora con un servizio speciale. Lo abbiamo, non so, un'intervista fatta a Enzo Scarzo per la Casa delle Farfalle che aprirà nei prossimi giorni. Grazie amici per la cortesa attenzione. Ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.